Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo delle carte di credito prepagate, strumenti finanziari versatili e accessibili. Vi spiegherò cosa sono, come funzionano, i vantaggi principali e come sceglierle. Cosa sono le carte di credito prepagate? Le carte di credito prepagate permettono di effettuare acquisti e prelievi utilizzando un saldo precaricato. Non sono collegate a un conto corrente e non permettono di spendere oltre il saldo caricato. Ideali per chi non vuole o non può aprire un conto bancario, per viaggiatori e giovani che imparano a gestire il denaro. Possono essere utilizzate ovunque siano accettate le carte di credito tradizionali. Come funzionano le carte di credito prepagate? Utilizzare una carta di credito prepagata è semplice. Dopo averla acquistata, carica il saldo desiderato tramite bonetico, versamento in contanti o altra carta. Gestisci il saldo e le transazioni tramite un'app o sito web. Gli acquisti vengono detratti direttamente dal saldo disponibile. Una volta esaurito il saldo, puoi ricaricare la carta per continuare a usarla. Vantaggi delle carte di credito prepagate Le carte prepagate offrono sicurezza. In caso di furto o smarrimento, il rischio è limitato al saldo presente sulla carta. Sono facili da ottenere, senza bisogno di una verifica del credito. Ideali per controllare le spese, poiché non permettono di andare in rosso. Molte offrono funzionalità avanzate come notifiche di spesa in tempo reale e programmi di cashback. Come scegliere la migliore carta di credito prepagata Quando scegli una carta di credito prepagata, considera le commissioni, la rete di accettazione e le funzionalità aggiuntive come app mobile e i programmi di ricompense. Verifica le opzioni di ricarica disponibili e la facilità con cui puoi aggiungere fondi alla carta. Conclusione Le carte di credito prepagate offrono sicurezza, controllo e convenienza. Ideali per chi desidera gestire il proprio denaro senza un conto corrente, per viaggiatori e per insegnare ai giovani la gestione delle finanze. Spero che questo video vi abbia aiutato a capire meglio le carte di credito prepagate. Se vi è piaciuto, mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale. Alla prossima!